Grazie 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 Salve, 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 salve. Guardi il tre, scannate là, eccole qua. Dai, dai, prima. Prima, prima. Se lei viene verso di te, quella è la sua parte. Salve, 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 salve. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Sali i medici. Lasci questa Chiara e saliti indietro. Lascia indietro. Però io voglio dire una cosa. Siamo in tre su una persona. In tre su una persona. Sali. 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 Carica il fattore. Chi è che sta dietro? Attivisione. Vieni qua. 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 Buoi. Grazie. Vieni qua. Grazie. 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 La lancia! E2! 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 Voi! Ok, veloce! Stia là, stacca stacca stacca! 3! 6! 7! 2! Ok! Se ne rivolge con palloni! Via, via, via! Quella bianca e roda cosa fa! Via! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.